Cosa pensa lei dell'avvenire di questa città? Io penso che volevo restare sempre qui a Carpogna, di trovare un mestiere di mio marito qui a Carpogna, di restare sempre qui. Solo con guerra e fame si tornerà a nazione, oltre al frumento e al pane ci servirà il carbone, perché saremo l'eccezione. Il minatore scava tra gocce di sudore, rivella buca trema lanciando un'esplosione. Perché scintillerà il suo nome? Perché si chiamerà Carbonina dove il lavoro è gioia, si chiamerà Carbonina e produrrà il carbone. Si chiamerà Carbonina dove il lavoro è gloria, si chiamerà Carbonina e produrrà il carbone. Dei produrrà il carbone. avanti uomini, avanti anche se stanchi, avremo tutti i camice nere, avremo lampade e medaglioni per ritrovarci, saranno i topi delle miniere. Sarà un esempio di progresso di città, sarà un successo per il regime. dal continente la mano d'opera arriverà, per lavorare e poter morire. si chiamerà Carbonina dove il lavoro è gioia, si chiamerà Carbonina e produrrà il carbone. Si chiamerà Carbonina dove il lavoro è gloria, si chiamerà Carbonina e produrrà il carbone. Grazie a tutti Grazie a tutti